Dopo la regina Elisabetta anche il premere britannico David Cameron ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping con tutti gli onori. I due hanno parlato soprattutto di economia e di scambi commerciali. Non sono mancate le critiche alla concorrenza sleale della Cina nel settore delle acciaierie che starebbe costando migliaia di posti di lavoro nel Regno Unito. In conferenza stampa un giornalista ha chiesto al premier se lei fosse un operaio siderurgico che ha perso il lavoro allo stesso momento in cui il presidente cinese veniva trasportato in pompa magna, come si sarebbe sentito? Qual è il limite oltre il quale non andare anche a rischio dei nostri interessi economici in Cina? Piccata la risposta del premier, critico le premesse di questa domanda sul fatto che si possa avere una discussione con la Cina sul problema dell'acciaio oppure parlare di diritti umani o ancora avere una forte relazione con Pechino, cosa positiva per gli affari, gli investimenti e la crescita. Sono cinque anni che faccio questo lavoro e ho dimostrato che si può avere tutto questo, bisogna avere tutto questo. Gran Bretagna e Cina formalizzano inoltre un accordo per la costruzione di nuove centrali nucleari. Pechino si è impegnata col colosso francese DF a contribuire per oltre il 30%, una cifra superiore agli 8 miliardi di euro, alla costruzione della centrale di Inclay Point in Inghilterra occidentale. È la prima nuova centrale nucleare nel Regno Unito degli ultimi 25 anni. Durante la visita del presidente anche manifestazioni di dissenso da parte di organizzazioni di sostegno al Tibet.